Ciao amici del Bosco, oggi parliamo di autosufficienza energetica. Siamo pronti, 2 kilowatt di motosega. Siamo tornati al PER, al parco delle energie rinnovabili, a trovare Alessandro che ogni giorno ne inventa una nuova e stavolta ci propone questa energia solare take away. Cosa ti sei inventato? Nulla di particolare se non il fatto di rendere chiunque autonomo in poche ore, il che significa poche ore, cioè si può riuscire a realizzare un impianto fotovoltaico, questo è un impianto da 3 kilowatt, i famosi famigerati 3 kilowatt, tutti mi chiedevano sempre ma come si può fare un impianto da 3 kilowatt, eccolo qui, stavolta la cosa è che è su ruote, quindi può essere parcheggiato in uno spazio, ovviamente bisogna avere uno spazio adeguato, può essere orientato perfettamente verso il sud, ha un'inclinazione perfetta per l'autoproduzione anche invernale, il che lo rende assolutamente eccezionale dal punto di vista del risultato energetico in funzione dell'investimento fatto. Quindi con 3 kilowatt cosa si riesce a fare? Questa è un'autonomia completa per il consumo medio di una famiglia di 4 persone. Wow, qui si vedono due cose importanti, i pannelli e delle ruote sotto. I moduli fotovoltaici sono moduli di ultima generazione, sono moduli monocristallino, tecnologia half cut si chiama e hanno una peculiarità che li rende molto efficienti sia con un alto irraggiamento quindi di un'alta temperatura che con una giornata come questa. Il tutto è ovviamente condensato nella possibilità di essere spostato e a bordo avere tutto ciò che serve. Basta stendere un cavo e ci si collega alla casa. Vediamo com'è composto questo impianto. Lì c'è il cuore di tutto, ora Alessandro ci spiega da cosa è composto e qui vediamo però questo particolare delle ruote. Perché l'hai messo su ruote? Perché chiunque può installarlo e soprattutto ho pensato a tutte quelle volte dove magari non abbiamo la nostra casa di proprietà e vogliamo fare un investimento o comunque vogliamo essere autonomi, possiamo comprare questo sistema e poi portarcelo via quando cambiamo casa. E adesso apriamo la scatola magica. Sì, qui abbiamo cercato di condensare tutto ciò che serve per l'autosufficienza. Ovviamente il tutto è stato fatto utilizzando materiali professionali di altissima qualità. Io in questo purtroppo sono un po' fissato nel senso che non mi piace utilizzare cose che poi ci lasciano a piedi. Quindi qui abbiamo il sistema nella sua massima espressione. L'impianto è costituito da vari elementi. Questo è il regolatore di carica, ovvero il rubinetto che regola il flusso dei moduli fotovoltaici in direzione alla batteria. Questa è una batteria da 7 kilowatt di capacità, è particolarmente compatta perché è un recupero di auto elettrica. Quindi è una batteria a litio di ultimissima generazione che consente in questo spazio così limitato di avere questa grande potenza e anche una capacità di erogare un sacco di energia. Qui poi abbiamo invece l'inverter che converte l'energia da corrente continua cioè quella prodotta dai moduli fotovoltaici in corrente alternata alla quale noi collegheremo la nostra casa. E questo è tutto ciò che ci occorre. Ovviamente è collegato a un sistema di monitoraggio che controlla in tempo reale sia la produzione fotovoltaica sia l'energia residua all'interno della batteria che la potenza massima che noi stiamo erogando. In questa maniera sia a casa ma anche in remoto possiamo andare a controllare e verificare che tutto funzioni. Qui c'è un sistema di trasmissione collegato ad una sim che trasmette questi dati sul nostro cellulare e possiamo verificare e controllare che tutto stia funzionando correttamente. Basta avere uno spazio per mettere questo impianto o bisogna chiedere un'autorizzazione? Allora questa non è un'opera edile, è un parcheggio di un carrello. Quindi conseguentemente a oggi non esiste nessun tipo di autorizzazione richiesta per poterlo installare. È molto interessante la soluzione che hai trovato per la batteria perché vai a recuperare una batteria che potenzialmente poi andava smaltita. Sì, tutte le batterie delle auto hanno una seconda vita. Ovviamente è un sistema che si sta ancora organizzando ma quando la batteria non è più idonea per la trazione, cioè per darci quel brivido che ci incolla al sedile quando schiacciamo il gas, è pronta per essere utilizzata a livello stazionario. Il che gli dà una vita presunta almeno di 20-25 anni alla fine. Basta collegare con questa presa la casa e con quest'altra se vuoi l'Enel e lui gestisce automaticamente il prelievo o eventualmente se non avete proprio l'allaccio elettrico un gruppo elettrogeno in emergenza che carica le batterie quando non c'è disponibilità energetica. La grande domanda, ma quanto costa diventare autosufficienti energeticamente? Il costo di un sistema del genere completo realizzato è 11.500 euro. Sembra una cifra considerevole ma ci rende completamente autonomi e autosufficienti in pochi minuti. Uno degli altri aspetti interessanti è che chiaramente uno può partire con un certo budget e poi farlo crescere con il tempo, cioè in base alle esigenze che magari possono mutare nel tempo o comunque sia magari nuove apparecchiature che entrano all'interno della casa, magari un veicolo elettrico o una pompa di calore, possiamo aggiungere senza modificare niente e senza buttare quello che noi abbiamo già realizzato. Ci si può gestire un'abitazione ma si può utilizzare anche per i lavori in campagna. Assolutamente sì, diciamo che adesso proviamo a prelevare una bella quantità di energia per fare qualche cosa che normalmente odiamo tutti, ovvero tagliare la legna. Alessandro si prepara per la prova motosega. Vado con 2 kilowatt di motosega. Il vantaggio dell'uso dell'elettricità è che anche nella motosega ci respiriamo sempre il tubo di scarico, le vibrazioni. La motosega non parte mai, qui parte sempre. E funziona anche sotto la pioggia. Sulla miseria. Per i meno manettoni, insomma, che comunque non si intendono di gestione di impianti del genere, una volta che ce l'hanno a casa, riescono a gestirlo? Sì, diciamo l'unica cosa sul quale bisogna impratichirsi è vivere con una risorsa specifica. Cioè noi siamo abituati al contatore che dai e prendi energia quanto te ne serve. L'unica cosa che bisogna tenere d'occhio, e in questo senso c'è un'applicazione specifica sul cellulare, volendo sul computer, che possiamo controllare, e ci dice qual è il nostro stato di produzione o di accumulo. Chiaramente se il sistema rimane collegato alla rete, nel caso in cui non ci sia solo, non ci sia sufficiente energia nelle batterie, preleverà dalla rete il tutto automaticamente senza fare nulla di particolare. Questo ci riporta però al tema iniziale, al messaggio che tu lanci sempre, insomma, chi ha voglia di diventare autosufficiente deve un po' cambiare la mentalità. Bisogna fare palestra, diciamo così. Una delle cose migliori da fare è un bel periodo, un bel noleggio di un camper se non si li ha, una bella passeggiata in camper con risorse limitate, o ancora più bello, una bella vacanza in barca a vela e si riesce a capire che cosa significa vivere con delle risorse limitate. Il tutto semplicemente perché aiuta a entrare in questa modalità alla quale non siamo più abituati purtroppo. Vorrei prevenire le risposte alle domande che ci arriveranno nei commenti, Adessandro. Sicuramente qualcuno scriverà che 11.500 euro sono tanti. Sicuramente non sono pochi. Diciamo che questo è il costo di un sistema di questo genere, che consente l'autosufficienza totale. In più, chiaramente se si vuole spendere meno, si può comunque venire a fare il corso, imparare a utilizzare i materiali e ovviamente senza il mio lavoro ti costerà significativamente di meno, puoi arrivare a risparmiare tranquillamente anche 3-4 mila euro. E pensiamo anche al risparmio perché ci possiamo anche proprio scollegare totalmente dalla rete. Certamente. Diciamo che secondo me il fattore reale è una scelta, secondo me è obbligata a essere autosufficienti o comunque sia prodursi l'energia in modo sostenibile. In più c'è un senso di grande libertà e autonomia che secondo me non apprezzo, Francesca. E comunque non facciamo emissioni, cioè evitiamo di utilizzare tutti i combustibili fossili. Assolutamente. Il fotovoltaico dura per 25 anni, le batterie sono riciclate, materiali di prima qualità. È un investimento che durerà sicuramente nel tempo. A me sembra una soluzione molto interessante e anche intelligente. Non per tutti perché anche se il carrello immobile si può spostare eccetera, qualcuno non ha lo spazio. Certamente, sicuramente. Però ci sono insomma anche soluzioni da balcone, si possono fare dei passi più. L'importante come al solito è andare ad aumentare l'efficienza. Se riduciamo la nostra esigenza magari ci potrebbe servire anche un impianto più piccolo. Questo è il consumo medio oggi. Bene, adesso andiamo al coperto, ci ripariamo anche noi. Tanto loro continuano a produrre lo stesso i pannelli anche se piove. Lasciate i vostri commenti, mettete un bel like e condividete. Ci vediamo al prossimo video. Grazie Alessandro. Ciao dal per. Ciao.